bene adesso andiamo a provare questo famoso attacco della gopro per la bicicletta perché ieri non ce l'ho fatta anche perché non ci arrivavo come tiene il cane pericoloso il suino guarda come corre guarda come corre il suino guarda guarda suino matto si è così riesco ad andare su no si vuole l'altra scaletta no si vuole l'altra scaletta però io a casa ho l'altra io ho ancora messo il pannellino fotovoltaico qua ci siamo ma non mi fido tanto di questa roba qua cazzo incollata con la colla non so quanto fidarmi dove è il pannello? il pannello è là pulire sarebbe a pulire ma non mi fido tanto io di salire qua voglio di no buoni buoni io sto mandando curriculum a nastro per carità però continuo a avere questo dubbio che tutto è gestito dalle aziende interinali nel senso che ormai annunci di aziende annunci diretti pubblicati alle aziende ne trovi un 1% tutto il 99 rimanente appunto delle aziende interinali io sto trovando veramente un casino di lavori il disastro ogni giorno decine e decine di lavori qui vicino vicinissimo oh non chiamano mai c'è un curriculum passamela di tutto rispetto no non capisco e ti dicono passa in agenzia passo in agenzia passo in agenzia ti dicono devi candidarti online cazzo mi candido online dalla mattina alla sera ho preso la candida ormai a son di candidarmi vabbè comunque intanto step oh mi stanno chiamando in 200 mila milioni per la smart è una roba impressionante il numero di telefonate email e messaggi che sto ricevendo e mi sto un po' rompendo le balle fra un po' faccio lo stesso discorso del computer che era a 150 non lo voleva nessuno perché volevano trattare l'ho messo a 200 trattabili e l'ho venduto subito adesso la smart è a 3,5 mi va bene venderla a 3,000 e tutti che insistono per andare più in giù io credo che la gente voglia portarla via a 500 euro non lo so una smart full optional del 2007 e a questo punto appena mi finisco di rompermi le balle la metto a 4,000 euro cioè alzo il prezzo così poi gliela riabbasso e ho il prezzo che volevo io alla fine purtroppo sono fatti così che devo dire che ce ne devo fare se la gente vuole essere presa per il culo io la prendo per il culo come ho fatto con la volta al computer oh alla fine l'ho venduto a quanto volevo io sì e allora dopodiché adesso a giorno appunto devo ancora non so quando di preciso devo portare il scarozzo qua a sistemare e quando lo porto a sistemare i giorni che sto senza mi pulisco casa quindi per cui la mia speranza è di dare la casa in affitto se io do la casa in affitto ragazzi cioè solo quei soldi dell'affitto vivrei di lusso io con 500 euro al mese vivo stra di lusso dopo vabbè ovviamente mi trovo anche lavori in giro faccio le stagioni è un po' ho super paura che mi freghino il cane capisci qua in Italia purtroppo c'è molta delinquenza c'è tanta brutta gente l'Italia è uno dei peggiori paesi che ci sia non il peggiore per carità assolutamente però è veramente uno dei peggiori che ci sia nel mondo e ho super paura del cane il computer me lo porto via ma il cane lasciarlo in campo da solo no 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 e quindi se si era in due se avessi avuto tipo la compagna purtroppo aveva finita cioè purtroppo meglio uno teneva il cane ci si dava turni insomma ci si organizzava hai capito ci sarebbe stato tutto infinitamente più facile soprattutto per le manovre ma per quello metto la telecamera quindi dai abbiamo risolto così grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti